Oggi faremo un video su Bombayground e se arriviamo a 50 iscritti faccio lo speciale 50 iscritti facendo una live con voi, giocando a questo giochino. Nel frattempo lasciate like e iscrivetevi. Vi mostro il video. Allora, lo atterriamo, lo atterriamo qui. Comunque questo gioco è uscito da poco. Riprendi? Sì. Ok. Questo è, non so se lo ricordate, c'era uno molto uguale a questo qui, o almeno penso sia questo qui, però l'hanno tipo, peccato, ce l'ho trovato ora. Ok. O no? Non mi aiutino, non mi aiutino. Il cammino l'ho ammazzato. Una kill. Oh no, sono caduto. Ho trovato la cura. Se l'avrei trovato quello là prima. No. È ammazzato la macchina. No. No, quando lo divattiamo qui penso. Mamma mia, mi sono visto la morte in faccia. Ho della cura. Fammi prendere. Ho trovato la macchina. Ho trovato la macchina. Ho trovato la macchina. Peccato. La vinta lui. Vabbè. Come ragazzi, non so se lo avete visto, ma la mia richiesta di amicizia. per non darmi la richiesta di amici se mi chiamo loris gra tutto grande tfg no loris tfg tutto grande nel tempo ne facciamo un'altra però mettiamo un bigione ok vediamo dove ci atterriamo io io tirerei qua nell'angolo no c'è il gioco qua nel pugno mio riuscita tutto questo mio mio è già morto purtroppo no ok non è morto io toco lì non credo più a quello dopo questa partita dico che l'ho finita non è morto non è morto non è morto non è morto cioè non è impossibilità ho togliato a metterlo ancora la prossima faccio lo square se ne ho ancora un altro live no cosa stupito ho fatto ciao ragazzi penso per questo video sia finita ciao